Musica Ben ritrovati amici telespettatori, oggi il nostro teleobiettivo vuole mettere a fuoco due parole unendole fra loro, calcio e crisi. Queste due parole sembrano unirsi non soltanto perché la nazionale italiana di calcio sembra stentare a ritrovare gli antichi splendori come ci ha dimostrato anche l'ultima partita dell'altro ieri ma anche perché c'è un inquinamento rinnovato nell'ambito del mondo calcistico sconvolto da questa inchiesta sulle scommesse clandestine. Di questo ci vogliamo occupare oggi cominciando con le prime pagine dei quotidiani e le pagine interne dei quotidiani che all'indomani dell'incontro di calcio fra Italia e Inghilterra hanno dato notizia dell'uno e dell'altro, dei due fatti che hanno appunto sconvolto il mondo del calcio e soprattutto sconvolto i tifosi. Cominciamo con il Corriere dello Sport, titolo di apertura e adesso preghiamo. Azzurri battuti 3-1 dall'Inghilterra a Wembley, l'Italia cade, Euro a rischio, si gioca tutto con Macedonia e Ucraina. Partenza brillante e gol di Scamacca. Kane, doppietta e Rashford ci puniscono. Spalletti, Amaro ha dovuto dire alla fine della gara, abbiamo subito la forza fisica, però ha anche ammesso Spalletti che i nostri calciatori, oltre a subire la forza fisica maggiore degli inglesi, si sono lasciati sorprendere. Quindi ha dovuto ammettere che qualche errore c'è stato e che quindi qualcosa va corretto. Andiamo alla Gazzetta dello Sport che in taglio medio ma con un titolo di grande evidenza ci fa capire il brivido, il brivido che sta attraversando la nostra Italia calcistica, Euro 2024 dopo il KO con l'Inghilterra 3-1. Non si può più sbagliare, partenza super con Scamacca in gol, poi il ribaltone con Kane e Rashford. Gli azzurri dovranno conquistare il pass contro la Macedonia e contro l'Ucraina. Questi dunque i titoli delle prime pagine dei due quotidiani sportivi più diffusi nel nostro paese, ma anche i quotidiani per così dire generalisti hanno dedicato ampio spazio alla debacle della nazionale di calcio. Vediamo il Corriere della Sera nelle pagine appunto sportive attitolato Illusione Italia. In vantaggio con Scamacca l'Inghilterra rimonta e colpisce tre volte dandoci una lezione severa. e vediamo dopo il Corriere della Sera anche la prima delle pagine sportive del Quotidiano La Repubblica. Allarme azzurro per l'europeo, serve un'altra Italia. Senza storia la sfida di Wembley, Spalletti ha dovuto fare le sue ammissioni. E tra l'altro ci sono, oltre alle dichiarazioni di Spalletti, nel sommario anche c'è un riquadro dedicato alla CT della nazionale italiana. Spalletti ha dichiarato testualmente partita con intenzioni giuste. Il risultato ci condiziona. È normale subire ripartenze se si vuole fare un calcio europeo. Questa è un po' la dichiarazione di difesa della CT della nazionale italiana. E poi ancora, sfogliando i quotidiani, troviamo nella prima delle pagine sportive del Quotidiano Il Giornale. Una sorta di titolo abbastanza ironico. Italia e i tre leoni fanno un male Kane per giocare anche sul nome del calciatore inglese che con la sua doppietta ha contribuito in maniera pesante al risultato negativo per la nostra nazionale di calcio. E infatti poi nel sommarietto la doppietta della punta del Bayern e il gol di Rashford ribaltano gli azzurri illusi da Scamacca. Troppi errori, ecco qui c'è un'analisi già nel sommario, troppi errori della difesa dopo un primo tempo giocato alla pari. Ora bisogna battere la Macedonia per giocarsi la qualificazione all'europeo in Ucraina. Questo è ancora più dettagliato come sommario il titolo che troviamo appunto nella prima delle pagine sportive del Quotidiano Il Giornale. E poi ci spostiamo sulla pagina sportiva del Quotidiano Avvenire che dedica più spazio al problema del calcio scommesso. Infatti troviamo, come possiamo vedere, il titolo relativo al nazionale di calcio relegato in posizione di spalla sulla pagina sportiva di Avvenire con il titolo Wembley Amaro, tre gol all'Italia, inglesi qualificati per l'Euro 2024. Quindi l'Italia ha di fatto regalato alla squadra britannica il passaporto per 2024 rendendo più difficile la propria strada per ottenere lo stesso passaporto. Però il titolo più importante della prima pagina sportiva del Quotidiano Avvenire è Matti per il calcio, stop alle scommesse, una sorta di appello. Bisogna smettere con questa storia delle scommesse, vuole evidenziare il Quotidiano Avvenire. E non a caso, come abbiamo potuto intravedere mentre leggevamo i titoli relativi alla partita della nazionale di calcio sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, anche i quotidiani sportivi danno ampio risalto a questo scandalo. Torniamo quindi a rivedere la prima pagina del Corriere dello Sport e vediamo che in posizione di spalla, quindi la posizione di maggiore evidenza dopo il titolo di apertura, troviamo il titolo Fagioli, sette mesi di squalifica e cinque di riabilitazione. Il patteggiamento con la FIGC e questo titolo ci fa capire che cosa è successo nello stesso giorno in cui la nazionale di calcio veniva sconfitta dall'Inghilterra. Nicolo Fagioli, centrocampista piacentino della Juventus, è ormai uscito per così dire fuori dall'incubo e ha patteggiato sette mesi e 12.500 euro di multa, tornerà in campo nella prossima stagione e dalle sue parole emerge l'autoritratto di un giocatore compulsivo. Si è fatto dare denaro da compagni ed ex compagni di squadra, un incubo da cui probabilmente è uscito con l'accordo fra i suoi legali e la FIGC. Il patteggiamento lo terrà fuori dal campo sette mesi, squalificato fino a fine stagione e pagherà una multa, come abbiamo detto, di 2.500 euro. Altri cinque mesi sono stati convertiti in pene alternative e li dovrà spendere in attività utili, parlando nelle scuole calcio del vizio del gioco e delle conseguenze drammatiche che può causare. Ma ora vediamo la prima pagina dell'altro quotidiano sportivo, la Gazzetta dello Sport, nella quale forse è utile sottolineare questo aspetto. Il titolo di apertura, quindi si dà maggiore risalto rispetto anche all'esito della partita con la Nazionale, il titolo di apertura è proprio sul calcio scommesse. Tonari ha scommesso sul Milan, le giocate non avrebbero inciso sul risultato, ma Sandro rischia un anno di squalifica sentito per tre ore dalla PM dell'inchiesta e poi nell'occhiello l'ammissione alla procura FIGC interrogato anche a Torino. Questo il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport che ci fa capire come per alcuni giornali la questione morale è più importante della vera e propria capacità dei giocatori di farsi valere in campo. Una questione morale che ha comunque i suoi riflessi sulla capacità degli stessi calciatori di rendere al massimo in campo. Per questo i due argomenti non possono essere scissi e per questo subito dopo una breve pausa pubblicitaria noi cercheremo di mettere a fuoco sia la capacità della squadra azzurra di riuscire a giocare come l'Italia ci ha abituato storicamente, cioè ottenendo prestazioni importanti, sia cercheremo di capire anche perché periodicamente emergono degli scandali del mondo del calcio. Lo faremo con una persona autorevole e preparata, lo faremo ascoltando il parere dell'ex vice direttore di Rai Sport, Giampiero Belardi, che si collegherà con noi. Quindi restate con noi, qualche minuto brevissimo, rapidissimo di pubblicità e poi approfondiremo questi due argomenti. Il risultato della nostra nazionale di calcio e la sua capacità di riuscire a conquistare la qualificazione agli europei è il mondo drogato del calcio. A fra poco. Come abbiamo già anticipato nella prima parte, siamo collegati con Giampiero Bellardi, già vice direttore di Rai Sport. Cominciamo, caro Giampiero, anzitutto benvenuto fra noi. Buongiorno a te Stefano e a tutti gli spettatori di Teleradio Patrepio. Allora, cominciamo subito con l'argomento che forse tocca più il cuore di tutti i tifosi. Il risultato di una partita che nel primo tempo ha entusiasmato e che nel secondo tempo ha lasciato delusi tutti coloro che guardano azzurro nel futuro del calcio italiano e che sperano che l'Italia possa rientrare a pieno titolo fra le grandi nazioni europee del calcio. Che cosa è successo a tuo giudizio? Poi citeremo anche le impressioni di Spalletti. Ma prima di tutto, a tuo giudizio, che cosa è successo? Cosa non ha funzionato? Ecco, devo dire, intanto ricordando che questa nazionale ha subito un vulnus quando era in ritiro a Coverciano, lo ricordate, lo ricordiamo, due giocatori, Tonali e Zaniolo, sono stati addirittura prelevati dalla polizia perché nei loro confronti c'era un avviso di garanzia per le indagini sul calcio scommesse. Questo sicuramente non è un alibi, però dice che quel momento di tensione, quel veder, diciamo pure sparire due giocatori sicuramente importanti nell'assetto spallettiano della nazionale, ha creato momenti di, se non disbandamento, comunque di non tranquillità. Non è un alibi, non è una giustificazione, ma credo che sia corretto per la cronaca dire che era una nazionale che aveva subito quella vicenda a Coverciano, a memoria, non ricordo altre cose del genere, anche se il calcio scommesse nei tempi di Moggi ce ne ha fatte vedere anche di molto peggio. Poi in campo, sì, la squadra è andata bene, è partita bene, lo dicono tutti e lo confermo io, nel primo tempo ha messo più volte in difficoltà l'Inghilterra, è andata addirittura in vantaggio con quel bel gol di Scamacca. Nel secondo tempo è come se quella sintonia, soprattutto fra i centocampisti, ma diciamolo anche qualche buco difensivo non giustificato, insomma, Scalvini, Di Lorenzo, che ha provocato quel rigore che si poteva forse evitare, anche se è il famoso senno di noi critici. Quindi un primo tempo completamente diverso dal secondo. E visto che a questo punto nulla c'è stato sottratto, nulla c'è stato regalato e l'Inghilterra alla fine ha meritatamente vinto, adesso guardiamo la classifica del nostro girone. Siamo terzi dopo Inghilterra e Ucraina e quindi decisive le due partite di novembre contro la Macedonia e proprio contro l'Ucraina. Pensate un po', il calcio ci mette di fronte alla squadra di un paese che sta soffrendo la guerra da settimane, settimane e settimane. Ecco, prima di passare all'altro argomento che per certi versi abbiamo introdotto parlando di questa ultima partita, quello del calcio scommesse, un'ultima notazione su questo percorso dell'Italia, percorso nel quale sta tentando di qualificarsi per gli europei. A tuo giudizio, sulla base anche di queste due assenze, l'Italia ha ancora una buona possibilità di farcela? Ci giochiamo tutto, è evidente soprattutto nell'ultima partita con l'Ucraina, guardando anche la classifica, la Macedonia dovrebbe, e il condizionale lo sai Stefano è sempre d'obbligo, il pallone rotondo come si dice, con la Macedonia dovremmo farcela. L'Ucraina è il vero, consentitemi di usare una parola molto sportiva, Il duello, ecco, il duello con l'Ucraina sarà sicuramente quello decisivo per definire la seconda squadra che accompagnerà l'Inghilterra alla fase finale. E veniamo dunque all'argomento ancora più doloroso, quello del calcio scommesse. La cronaca ormai ci ha dato tutti i dettagli, compreso l'aggiornamento del patteggiamento di fagioli, ma quello che occorre capire è come mai ogni tanto giocatori o comunque anche personaggi di un certo livello dell'ambito calcistico ben pagati, strapagati potremmo anche dire, cadono in una trappola di voler ottenere di più, di voler più denaro. Che cosa succede? È davvero così drogato questo mondo? È un mondo che fotografa e risente, consentitemi di dirlo, quello che è un virus pericoloso che si annida nel nostro tessuto sociale. Lo ha detto molto bene il presidente della Federcalcio, Gravina, di cui mi piace riportare le testuali parole. Ha parlato di ludopatia, di malattia del gioco, di malattia del gioco d'azzardo, delle scommesse. Ha detto, Gravina, non dimentichiamoci che la ludopatia è una piaga sociale. E non riguarda solo il calcio, sono più di 5 milioni i casi, come dire, testati di ludopatia e per un milione e mezzo di loro si parla proprio di grave malattia. A questo punto è difficile non pensare che questo problema, questo virus, non abbia toccato anche chi, non solo apparentemente, gode di una situazione economica, sportiva e sociale, direi, di alto livello, come questi giocatori di Serie A di cui stiamo parlando. Ma vi segnalo proprio il caso di Niccolò Fagioli, che poi è stato, come dire, il primo che ha finito per dichiarare i suoi errori, le sue cose pensate, ha detto di aver speso 3 milioni di euro per scommesse, attenzione parliamo di scommesse su siti illegali, perché come sapete le scommesse in sé per sé non sono proibite anche sul calcio, ma sono scommesse su siti illegali, su siti che hanno a che fare con la malavita, diciamolo chiaramente. Lui è finito nelle grinfie, ha dovuto chiedere prestiti, è finito nelle grinfie di quella malavita che attraverso le scommesse finisce per, consentitemi l'espressione forte, succhiare il sangue di chi finisce in quel giro. E lui, pur essendo un giocatore di Serie A, un giovane di 22 anni, paga in questo modo, l'ho letto attentamente, anche una situazione familiare difficile. Ha avuto però il coraggio di autodenunciarsi e la procura della Federcalcio, la procura sportiva, cioè ha riconosciuto questa sua, consentitemi di chiamarla buona volontà, voglia di redimersi quantomeno e ha ridotto la squalifica, pensate, a soli sette mesi da tre anni che era secondo il codice sportivo, ma per cinque mesi lui dovrà svolgere un'attività sociale attraverso incontri, dibattiti, per diffondere l'antivirus della passione, scusate la parola, per le scommesse incontrando giovani, incontrando categorie deboli e così via, raccontando insomma la sua esperienza e invitando chi parteciperà a questi incontri ad evitare quel percorso insidioso. Ecco, almeno nelle società calcistiche italiane, nel team è prevista la presenza di uno psicologo, c'è la figura di uno psicologo, non so se questo avviene anche nelle squadre straniere, ma perlomeno in quelle italiane, visto che abbiamo giocatori che militano sia nelle nostre squadre sia all'estero coinvolti in questa vicenda, c'è lo psicologo. Possibile che questa malattia, la ludopatia appunto sia sfuggita allo psicologo che dovrebbe monitorare lo stato d'animo psicologico dei calciatori? Non so che risponderti per quanto riguarda la Juventus, una squadra così importante, così storica, così ben organizzata, eppure pensate come ha raccontato anche ieri sera la gola profonda di tutta questa vicenda, cioè Fabrizio Corona appena uscito dal carcere, ma pieno di, le chiamiamo notizie, le chiamiamo sospetti, le chiamiamo voci, comunque è stato lui, non dimentichiamolo, ad accendere la miccia di questa vera e propria bomba che sta sconvolgendo e spuotendo il mondo del calcio. Lui stesso ci ha raccontato di vicende familiari di cui è venuto a sapere e quindi ha messo il dito sulla piaga, proprio quella che dici tu, come mai un ragazzo come lui, ripeto, 22 anni, che giocava da tempo e non è stato mai assistito da una famiglia che per tanti motivi si era sfrangiata, diciamo pure, come mai nessuno in società, nella squadra, eccetera, abbia saputo, potuto, non vorrei dire voluto assolutamente, aiutare un ragazzo così in difficoltà, che dai tempi della Cremonese, squadra in cui lui ha giocato, della sua città, si era già contagiato col virus delle scommesse. È proprio vero e vorrei, come dicevano i latini, o portetut scandale veniant, che uno scandalo del genere segnali il disagio anche di chi, apparentemente ricco, apparentemente fortunato, apparentemente sulla cresta dell'onda, ha in realtà debolezze tali che lo portano poi a cadere in questi veri e propri precipizi morali, sociali. Ecco, abbiamo pochissimi secondi per una lapidaria domanda e un'altrettanto brevissima risposta. Si può fare qualcosa per evitare che ci sia l'ennesima inchiesta su scommesse nel mondo del calcio in futuro? Allora, io vorrei concludere con una dichiarazione di fiducia nella magistratura. Non dimentichiamo che tutta questa inchiesta nasce da un'inchiesta giudiziaria della Procura di Torino, sì, della Procura di Torino, dico bene, specializzata proprio nella caccia alle scommesse illegali, alle piattaforme organizzate dalla malavita, nella quale sono rimasti intrappolati, è il caso di dire, anche questi calciatori. Ricordiamo che l'inchiesta riguarda Fagioli, Zaniolo, Tonali, poi Corona ha parlato anche di Zaleschi, ma al momento non c'è nessuna conferma riguardo a questo. Ecco, io vorrei concludere con un richiamo al nostro rispetto, attenzione e sostegno alla magistratura, una magistratura troppe volte presa di mira e presa d'assalto, che invece in questo caso è riuscita a scavare e a scavare qualcosa che sicuramente fa notizia perché si tratta di giocatori di Serie A, ma non dimentichiamo che ha scoperto quanto radicato, quanto profondo sia questo giro di scommesse illegali attraverso piattaforme nelle mani della malavita organizzata. E ci auguriamo che ulteriori e continui controlli possono fare da deterrente per evitare che nuovi scandali possano funestare il mondo del calcio. Grazie a Gian Piero Belardi per averci dato questi chiarimenti, per esserci stato di grandi aiuto nel capire cosa sta succedendo nel mondo del calcio. Grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito. Grazie a tutti.